La città di Sciacca si prepara al terzo ed ultimo weekend delle vie dei tesori, numeri importanti quelli dell'edizione 2021 del festival, con tantissime presenze, non solo saccensi nei 13 luoghi del percorso, ma anche tanti cittadini dei paesi limitrofi. Domani e domenica avremo ancora i nostri 13 siti aperti, tante passeggiate ancora, tanti laboratori, speriamo che ci possa essere ancora tanta gente curiosa e interessata. Per noi comunque è già un successo, per noi intendo dire per la città di Sciacca, questo risultato, la presenza di tante persone, sia dei paesi vicini, di altre province e i tanti saccensi che hanno visitato i siti è già un risultato importante perché l'obiettivo principale è quello di invitare le persone a uscire in sicurezza, a godere di questi momenti, a fruire di questi luoghi, a riscoprire una storia importantissima che ci può veramente aiutare a costruire anche il futuro. Anche quest'ultimo weekend saccense delle vie dei tesori sarà ricco di eventi ed iniziative, tra gli appuntamenti più attesi la passeggiata cinematografica domenica prossima insieme a Vincenzo Raso dell'Associazione Pietro Germi, tra i luoghi, le piazze, i vicoli, i cortili, le strade, i monumenti in cui il regista girò in nome della legge e sedotta e abbandonata. Ci sarà spazio anche per una degustazione di ova murina, granite e cucchitelle presso la struttura ricettiva, la finestra sul cortile. Ma il luogo più visitato di sciacca nei tre fine settimana del festival rimane indubbiamente la chiesa dello Spasimo, riaperta dopo 60 anni e che ospita al suo interno la personale domus di Franco Accursio Gulino. Era un luogo chiuso da 60 anni, un luogo che soltanto i nostri genitori o i nostri nonni hanno visto da bambini e quindi comprensibile che ci sia questa grande curiosità. Io ho incontrato all'interno del sito adesso adulti che un tempo frequentavano le scuole elementari lì al fazello e così all'orecchio mi hanno raccontato che quando erano bambini, quando lì c'era la corte d'assisi, assistevano ai processi, da bambini durante le ore di lezione si affacciavano dalla parte alta perché c'era uno spettacolo, non capivano che fosse un processo. Questo per dire che la chiesa dello Spasimo è parte della nostra storia, del nostro tessuto urbano e della nostra identità. Grazie a tutti.